e secondo me col drive non fa tanta strada fa meglio con un ferro quindi io lo tirerei col ferro 5 messo sul T e colpito da questo lato qua cancio per Gigi però sai il giocatore anche in gara tende a spingersi sempre al di là dei suoi limiti il più compito dell'architetto è anche indurlo nella tentazione illuderlo che lo può fare che lo può fare, illuderlo lasciargli la possibilità tutta la mascolinità che non c'era in quel path veniva simboleggiata da questo fantastico tirozza che girava durante il match in tasca a chi per ultimo girava il path qui ci sono dei giocatori molto lunghi che hanno un campo troppo più facile rispetto a quelli più corti e quando io sento questa cosa penso sempre volete che vi tiro io il primo drive? giochiamolo, divertiamoci e ci sta!